Modulo 4 Pubblicazione di rappresentazioni digitali di ricette rituali. Diritti d'autore e protezione dei dati. Importanza della protezione dei dati e delle questioni del GPR nella presentazione digitale di alimenti e ricette. Il diritto alla privacy è tra i diritti fondamentali di una persona. L'obiettivo principale del Regolamento Generale sulla protezione dei dati è proteggere le persone da violazioni sproporzionate e indesiderate della vita privata nell'ambiente digitale. I dati personali rappresentano le informazioni relative a un individuo identificato o identificabile. I dati personali comprendono anche varie informazioni dalle quali si possono identificare le persone. I dati che solitamente vengono indicati sono il nome e il cognome, l'indirizzo di residenza, l'indirizzo e-mail, il numero di identificazione personale, i dati di posizione, ad esempio, la funzione di localizzazione nel telefono cellulare, l'indirizzo del protocollo Internet IP, il numero di identificazione dei cookie, l'identificazione telefonica per esigenze pubblicitarie, dati medici e altro. Per quanto riguarda il GDPR nell'ambito del processo di digitalizzazione delle ricette alimentari, occorre prestare particolare attenzione alle immagini e ai video in cui le persone possono essere identificate. Questo può accadere sia a un evento familiare che pubblico. Se una persona non desidera che la sua barra la sua immagine venga vista in foto o video accessibili al pubblico e non ci sono motivi legali per renderlo pubblico, questo desiderio dovrebbe essere rispettato. Se si organizza un evento dove sono previste delle foto o video, dovrebbe essere specificato in tutti i materiali promozionali e pubblicitari pertinenti. Se una persona partecipa all'evento essendo consapevole di questo, conferma indirettamente l'accordo a questa regola. Vale lo stesso in caso di eventi al chiuso, workshop e conferenze. Si consiglia di allegare un accordo ai materiali di registrazione di una conferenza in cui i partecipanti firmano per confermare il consenso all'uso di immagini a scopo pubblicitario, dove possono essere presenti. Alle persone presenti in eventi familiari o contesti d'amicizia, bisognerebbe chiedere l'autorizzazione a rende le foto pubbliche. Nel caso contrario va rispettata la loro volontà. I bambini non possono acconsentire al trattamento dei dati personali fino al compimento di 18 anni di età. Se un sito web viene utilizzato per la pubblicazione di ricette digitalizzate, sono applicabili tutte le principali condizioni della protezione dei dati dei suoi visitatori. È fondamentale che ci sia il consenso al trattamento dei loro dati personali per proseguire. Le condizioni più importanti da prendere in considerazione nello sviluppo della politica sulla privacy L'informativa sulla privacy dovrebbe specificare informazioni sul sito o sulla società, contatti, finalità del trattamento dei dati, obiettivi per i quali i dati personali sono destinati, le basi giuridiche del trattamento, i destinatari dei dati personali, la durata della conservazione dei dati, e il diritto di richiedere l'accesso ai dati e la loro correzione o cancellazione. Se si desidera contattare un cliente per scopi di marketing, ad esempio, per inviare informazioni sulla nuova offerta, prodotti o servizi, il cliente deve essere informato su questo, fornendo la possibilità di scegliere di accettare o meno la ricezione delle notizie. In caso di accettazione, il sito web dovrebbe anche fornire informazioni sulla possibilità di rifiutare la ricezione di queste notizie. Il corso è stato creato dal consorzio del progetto Eurica finanziato dal programma Erasmus+. Grazie per l'attenzione.